Per il tuo comfort, realizzando e installando i migliori serramenti. Via Pellegrini 6D, alvese con Cassano. Telefono 031427935. Rigamonti, prodotti di qualità, di manifattura italiana, dal prezzo contenuto e delle più grandi firme. Vieni nei nostri negozi, a Como in via Luini 20, in via 5 giornate 11 ed ora anche in via Milano 9, a Cernobbio in via Regina 28A. Rigamonti, calzature al passo coi tempi. Sport Magazine. Ci siamo, buon pomeriggio, eccoci qua in diretta radio, in diretta web, 18, passate da 7 minuti. Donne, grandi protagoniste dello sport a Comasco. La notizia è proprio di pochi minuti fa, proprio nel pomeriggio a Lucerna. Sara Bertolasi si è qualificata per le Olimpiadi di Rio. Seconda volta consecutiva per lei che partecipa alle Olimpiadi. Atleta di punta della Canottieri Lario. Strepitoso risultato ovviamente per lei che avremo nei prossimi giorni. con noi in studio, assieme a un raggiante presidente Enzo Molteni, altrettanto brave e comunque meritevoli di tutte le attenzioni, tutte le lodi che abbiamo fatto loro, oggi le facciamo ancora pubblicamente, le ragazze della Como 2000. Due di loro sono qui, oggi sono venute a trovarci. Protagoniste di una bellissima cavalcata, conclusa domenica con la promozione in Serie A. Tornano in Serie A. Giada Oliviero è con noi, c'è anche il bomber Giulia Ambrosetti, la vedremo tra poco. Iniziamo con Giada. I complimenti ovviamente dopo due giorni per questo strepitoso risultato. Como 2000, un po' di fortuna me l'abbiamo portata. Adesso c'è qualche merito, ce lo prendiamo anche noi, che torna in Serie A. Che bello. E beh sì, è una grande gioia insomma. Questa è tra l'altro, la potete vedere con il web, ecco mostrala bene, la maglietta, Giada. Sì, è la maglietta celebrativa che abbiamo organizzato per... L'avete indossato però solo al novantesimo domenica. Sì, esatto. Per Scaramanzia l'abbiamo nascosta, poi dopo mancavano pochi secondi alla fine, l'abbiamo tirata fuori e l'abbiamo indossata al fischio finale. È stata una grande emozione, è una grande emozione rivivere questa futura Serie A, insomma, vediamo il prossimo anno. Una sola stagione tra i cadetti, avete fatto un campionato importante, ho detto prima davvero strepitoso, siete partiti perdendo, poi avete sempre quasi vinto, tranne un passo falso, un mezzo passo falso, in quest'ultimo finale intenso di stagione, contro il Mezzacane, se non sbaglio. No, no, con il Mozzacane avete vinto. Con la Bocconi abbiamo pareggiato due a due. Mezzo passo falso, diciamo con la Bocconi, ma per fortuna le vostre dirette avversarie, cioè il Valpolicella, hanno fatto altrettanto a Meda, e quindi poi domenica è arrivata questa promozione. Però a Gallarate, domenica, non è stato facilissimo vincere, giusto Giada? No, non è stato facilissimo, diciamo che abbiamo vinto contro la tensione anche, perché... Forse, ecco, cosa... Cioè, come si approccia questa partita? Spiegaci un po', in retroscena sembrava tutto facile, o meglio, tutto scontato, però in realtà non è così, perché quando c'hai ovviamente la certezza quasi di avercela fatta, forse è ancora più difficile Giada, o sbaglio? Esatto, più che altro perché loro non avevano assolutamente nulla da perdere, noi invece da perdere tutto in quel caso, e quindi o vincere tutto, e per fortuna ci è andata bene, e cioè per fortuna, per meriti anche nostri, insomma, del ministro, della società, dello staff, e siamo riusciti a portare a casa appunto una grande vittoria, e noi tutte eravamo molto tese a inizio gara, sin, penso, dalla mattina, poi finalmente... Che magari dal sabato, dal venerdì, eh? Certo, tutta la settimana in realtà gli allenamenti, si è sentita un po' questa tensione, però siamo riusciti a sconfiggerla, e abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità, e ce l'abbiamo fatta, insomma. Qual è stato il merito principale del tuo allenatore? Tanto facciamo finta che non ci senta, dai. Ma è un grande motivatore, è stato molto molto bravo, lui è molto bravo anche a... sia a motivarci che anche sotto il punto di vista tecnico, tattico, è molto preparato. Lui ha detto, comunque, va detto che quando è stato qui anche l'ultima volta a trovarci, ha detto, ma io non devo fare granché, perché è un grande gruppo, sono brave, giocano bene, è vero, ha reso merito anche a quello che avete fatto, però certamente c'ha dei meriti, anche il vostro coach, mister Antonio Cincotta, che anzi, tolgo l'occasione per salutarlo, speriamo di poterlo avere presto, perché è stato anche lui, ovviamente, artefice di questa Serie A. Certo, lui dice così, è molto modesto, però noi siamo un grande gruppo, certo, grandissime giocatrici, grandissimo gruppo, spogliatoio unito, però lui ha fatto, lui e il secondo fratello Stefano hanno fatto grandi cose, insomma, con noi. Un merito davvero, quando sei venuta a trovarci, già durante il campionato, cioè va anche... tu sei una, chiamiamola, della vecchia guardia, così, definiamoti così, e comunque sembrava la tua una carriera un po' compromessa, hai avuto un grave infortunio, hai lottato, ti sei applicata, sei tornata, hai giocato, e sei stata anche tu, assieme alle compagni, ovviamente protagonista. Ha un sapore particolare? Beh, sì, certo, insomma, vincere in questo... dopo aver avuto un infortunio di questo tipo, perché comunque ho subito anche un intervento al ginocchio, ma è superato tutto, e oggi sono più vincente, più forte di ieri. Senti, dai, visto che sei appunto, come diciamo, una della vecchia guardia, introduci il bomber che è qui con noi quest'oggi, cosa gli vogliamo dire? Poi la presentiamo, parliamo anche con Giulia, bravissima anche Giulia. Ma in realtà anche lei, della vecchia guardia, ha fatto soltanto un passo falso, ma ci conosciamo dalle giovanissime, del Como 2000, perché anche io ho giocato con lei nelle giovanissime, nella primavera, poi dopo lei ha fatto un anno fuori, però qui con noi vieni Giulia. Quali sono le sue caratteristiche? Allora adesso cedergli leggermente il posto, poi torni ancora a Giada. Calcio femminile protagonista oggi, eccola qua, la grandissima, una delle grandissime protagoniste, però ecco, è giusto dire che noi oggi abbiamo invitato due delle rappresentanti, ma il merito è ovviamente da estendere, perché è una squadra composta da 11 titolari, più le riserve anche a tutte le altre. Giulia, complimenti anche a te, 14 reti segnate, e quindi una parte importante della promozione ce l'hai anche tu. Che cosa si prova dopo due giorni? Beh, c'è ancora felicità, perché comunque... I costumi dei festeggiamenti? Appunto. No, quelli per fortuna sono passati ieri, però ovviamente c'è ancora il ricordo dei festeggiamenti di domenica e i festeggiamenti che verranno, perché poi ci sarà una festa con tutta la società, di conseguenza... Bello, dai, davvero bello. Senti, torniamo un attimo anche con te a domenica, questa partita di Gallarate. Sembrava semplice, sembrava scontato quasi, in realtà poi avete dovuto soffrire fino al novantesimo, perché come hai detto già da... Poi Giulia forse c'era un po' quella tensione, quella voglia di vincere, ma di stare anche attenti e non compromettere un campione sarebbe stato, diciamocela tutta, un delitto. Sì, diciamo che l'ultime partite... Sportivo, un delitto sportivo. Le ultime partite sulla carta sembravano tutte semplici. Il problema è che quando sai che hai l'avversaria diretta a soli due punti, anche solo un pareggio, ti compromette tutto il campionato. Quindi era soprattutto la tensione che giocava contro di noi, non tanto le avversarie. Esatto, quindi alla fine credo poi è stata una autentica liberazione, domenica. Sì, decisamente. Adesso senti, Giulia, hai già pensato per qualche minuto che il prossimo anno giocheremo in Serie A? Ci hai pensato? È presto? È ancora prematuro? Allora, per me è presto perché vorrei prima godermi appunto questa vittoria del campionato di Serie B e ritorno in Serie A. Poi fra un mese magari ci penseremo. Sì, sì, infatti, è vero. È giusto anche questo, ovviamente, adesso, perché poi le cose vanno talmente veloci, anche vedo, che a volte non si ha quasi neanche il gusto, il sapore di gustarsi appunto fino in fondo, un risultato. Sportivamente è stato un risultato tra i migliori che quest'anno Como ha avuto, va detto, le ragazze del calcio femminile, proprio, guarda caso, Giulia, nell'anno in cui il Como ha giocato in Serie B, parlo dei colleghi maschi, sono retrocessi, voi invece avete fatto il cammino inverso. Purtroppo è andata così. Noi speravamo che rimanessero anche loro in B, però è andata male a loro, è andata bene a noi, magari il prossimo anno andrà bene anche a loro. Senti, il segreto di questo gruppo, o meglio, il segreto di questa promozione in Serie A, Giulia? Soprattutto il gruppo, l'unione che si è formata fra noi ragazze e il mister e tutta la società che ci ha supportato in questi mesi, che non ci ha fatto mai mancare nulla e infatti si è visto poi alla fine siamo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo. Amiche vere? Allora, perché a volte a volte mi dicevano i tecnici che allenano il femminile o le ragazze trovano l'alchimia e quindi diventano amiche e fanno gruppo vero vero oppure se c'è qualcosa che non va sono terribili a farsi la guerra. È vero? Quello è vero. Cioè, molte volte capita che si formino dei gruppetti all'interno... In questo caso la Como 2000 è un gruppo di amici. Invece è stato un gruppo unito di persone semplici, simpatiche, che non se la tirano. Insomma, è andato tutto bene anche per merito nostro e di come siamo. Allora, dimmi due cose anche facciamo finta appunto che non ci possa guardare, che non ci guarda, che non c'è la webcam, che non siamo in diretta. Che cosa dici al tuo mister? O meglio, che merito riconosci ad Antonio Cincotta, l'allenatore che vi ha riportato in Serie A? Lo ricordiamo oggi qua da noi Giada e Giulia, due delle protagoniste della Como 2000. Bella realtà comasca che è tornata in Serie A. È un grande risultato. Allora, cosa dici al mister? Beh, lui sicuramente ha avuto il merito di non farci mai mancare nulla. Qualsiasi dubbio avevamo riguardo alla partita che veniva. Lui riusciva a togliercelo e questo è stato secondo me fondamentale perché quando tu vai in campo se hai dei dubbi già è più difficile affrontare la partita. Se invece sei preparata quasi a tutto perché a tutto è impossibile però alla maggior parte delle insidie delle avversarie è già un gran passo avanti. Bene. Allora Giulia tra poco torni ancora. Diamo ancora qualche minuto a Giada poi torna ancora Giulia Ambrosetti bomber della Como 2000. Giada allora spieghiamo anche magari tu di dove sei quando hai iniziato a giocare a calcio e per quale motivo perché in effetti non so chi qualcuna delle vostre compagne quando è venuta a trovarci in queste settimane dice beh insomma quando io dicevo ai miei amici che giocavo a calcio mi guardavano strana è successo così anche con te? Beh sì certo perché sono sono una ragazza ecco io sono di Grandate ho cominciato a giocare con i maschietti del mio paese della Vigor Grandate perché ho iniziato a giocare perché andavo a vedere le partite di mio papà e un signore mi ha detto dai ma perché non vieni a provare e sono andata a provare e mi è piaciuto e quindi poi questa passione si è prorogata nel tempo e poi è diventata una passione vera bella importante da quanti anni sei alla Como 2000 Giada? Allora Como 2000 sono otto anni questo finisce il nono quindi nove anni e gioco a calcio da quindici anni ecco quindi e la cosa più importante è magari alle ragazze no? che ci stanno non è che si devono sentire appunto come diceva strane perché giocano a calcio beh sono cambiato un po' i tempi adesso le cose c'è molto più interesse anche se però restate ai noi fanalino di coda nel calcio eh sì questo sì purtroppo però diciamo che qualcosa in più negli ultimi anni si è fatto si sta cercando di fare purtroppo i colleghi maschi sono sempre superiori a noi considerati superiori a noi insomma che poi a livello tecnico possiamo competere loro fisicamente sono devastanti ecco però diciamo che non abbiamo nulla da invidare il problema il problema per una partita contro i pari grado diciamo maschili sarebbe proprio solamente fisico sì 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 esatto perché a livello tecnico tattico a noi non manca nulla è proprio il fisico che ci in quanto donne insomma siamo comunque credo che non hanno nulla da invidiare perché queste ragazze hanno una grinta davvero pazzesca cosa ti senti dire allora una ragazza che magari piacerebbe provare l'avventura nel mondo del calcio al femminile poi ci sono anche delle belle soddisfazioni magari mancano quelle economiche ma non per colpa ovviamente dalla società che come hai detto tu giustamente non vi ha fatto mancare nulla ma perché è il mondo del calcio femminile che ovviamente è purtroppo in Italia un po' una cenerentola e si è poco seguito io dico alle bambine alle ragazzine che vogliono vogliono iniziare a giocare a calcio di buttarsi e di vivere questa avventura perché a me ha dato grandi soddisfazioni perfetto Giada senti parliamo anche allora un po' un attimino anche del futuro ho chiesto a Giulia se ha già iniziato a pensare ha detto no io vorrei godermi questa pronuncia ci hai pensato e tu oppure anche tu giustamente dici adesso aspettiamo ancora festeggiamo giustamente perché è un traguardo importante non vorrei dare tutto per scontato la Serie A anche nel calcio femminile non è proprio così scontata no? no non è assolutamente scontata ci mancherebbe abbiamo sudato tanto del futuro dico che sì mi godo il momento appieno e poi vediamo insomma un incontro con la società ne parliamo e vediamo un po' certo la Serie A fa gola come si dice fa gola fa gola certo quindi Giada Oliviero vuole esserci vuole partecipare giustamente l'hai conquistata esatto sì dai perfetto mettiamola così assolutamente anche perché arrivi appunto come dicevamo da un grave gravissimo infortunio quindi doppiamente brava complimenti a Giada grazie Giada complimenti ancora davvero per la Serie A ottenuta con la Combo 2000 e chiudiamo con il bomber vieni Giulia Ambrosetti che è appunto un po' la punta di diamante di questa società e di questa squadra ma non solo perché ovviamente si vince in undici anzi in quindici ovvio io quest'anno ho avuto la fortuna di giocare più vicino alla porta perché di solito qual è il tuo ruolo Giada è un difensore mi sono dimenticato Giada è un difensore il tuo ruolo qual è? il mio ruolo sarebbe centrocampista centrale quest'anno ho giocato da mezza punta e l'essere più vicino alla porta il classico diciamo numero 10 top una cosa così giusto? sì sì non sei attaccante vero? no no quello no perché non sono in grado purtroppo di dove sei? di dove sei Giulia? di dove sei? dove sei nata? di Carimate di Carimate e quando hai iniziato a giocare a calcio? ho iniziato a giocare a calcio 11 anni fa per merito o demerito di mio fratello piccolo io ho sempre giocato in casa con i miei fratelli e poi mio fratello più piccolo voleva iniziare a giocare a calcio solo che non voleva andare alla scuola a calcio da solo senza di me allora da lì ti accompagni mi ha visto l'allenatore dei pulcini da allora mi ha detto perché non viene a giocare nella squadra dei pulcini che c'è già un'altra ragazzina e io spinta dal fatto che comunque c'era già un'altra ragazzina ho detto vabbè allora inizio e da lì non ho più smesso all'inizio è più una sfida nei confronti dei maschietti adesso ti dimostro io che sono più bravo di te o no Giulia? non lo so perché per me è stato sempre comunque normale il giocare a calcio essendo in casa con altri due fratelli che giocavano a calcio mio papà ha patito per il calcio pure lui quindi è venuto un po' così è una cosa naturale diciamo così esatto e poi non ti ha mai guardato i tuoi amici tue amiche compagni di scuola dici ma io gioco a calcio spagno delle facce strane no allora i miei amici di carimate non mi hanno mai guardato male perché io ho sempre giocato con loro al campetto e ci siamo sempre divertiti un sacco poi essendo bravina comunque meglio che stavano zitti perché dimostravi di essere anche più brava di loro a volte diciamo che le prime occhiate negative le ho avute proprio quando ho accompagnato mio fratello alla scuola calcio e lì c'erano alcuni ragazzini che dicevano guarda quella ragazzina lì pensavano che comunque fossi scarsa non fossi portata per il calcio poi invece si sono ricreduti anche loro ecco bene due belle storie quelle che oggi vi abbiamo raccontato quelle di Giada che è caduta si è fatta male ma è tornata e ha conquistato la serie A quella di Giulia che appunto hai iniziato proprio perché in casa credo che non c'erano grandi alternative a casa tua Giulia io ho provato con il tennis l'atletica però il gioco di squadra è tutta un'altra cosa ecco e quindi è anche Giulia protagonista di questa promozione in serie A il futuro hai detto è presto ovviamente giustamente non ci vuoi ancora pensare ti chiedo un'ultima cosa Giulia secondo te qual è stato il momento non dirmi il novantesimo di Gallarate perché dove avete capito questo può essere l'anno buono per tornare in serie A c'è stato un momento una partita una circostanza per me i due momenti in cui comunque abbiamo capito la nostra forza sono stati contro il Valpolicella l'andata che abbiamo vinto e anche contro l'Inter al ritorno dove ci si è riscattate dalla sconfitta dell'andata esatto è vero poi avete perso al ritorno contro il Valpolicella però però avevate vinto però eravamo già davanti e quindi era tutta un'altra cosa va detto gran merito ovviamente anche alle avversarie il Valpolicella che fino all'ultima giornata vi ha tenuto col fiato sospeso ma il merito poi è vostro avete sudato vi siete applicate avete fatto grande fatica e alla fine brave davvero queste ragazze beh c'è anche una Como che vince ci fa piacere poterlo sottolineare e che vince bene nello sport Sara Bertolasi oggi qualificata alle Olimpiadi di Rio e anche questo è una cosa non è scontata seconda volta che si qualifica mai un atleta in Italia aveva fatto un risultato simile quindi è un grande risultato anche per Sara complimenti anche da parte di Giulia e complimenti a te Giulia a Giada e alle vostre compagne per questa meravigliosa Serie A che avete conquistato a presto grazie mille a presto grazie un po' di fortuna gliel'abbiamo portata dai a queste ragazze della Como 2000 noi ci fermiamo ci salutiamo e a proposito di fortuna chi non è scaramantico sono gli amici anzi lo dico in maniera ironica sono gli amici del basket in carrozzina sono venuti la scorsa settimana abbiamo portato fortuna loro allora hanno vinto gara 2 della finale scudetto e hanno detto che volevano ritornare per vincere lo scudetto domani saranno qui domani sera gli amici del basket in carrozzina grazie a tutti e un saluto al nostro regione